sessantenne pesarese annuncia il suicidio in panoramica salvato dai carabinieri covid più di 200 contagi nella provincia pesarese al via la sperimentazione dei monoclonali servizio online per i clienti le farmacie comunali presentano la nuova applicazione roberto mancini il nuovo testimonial delle marche sottoscritto l'accordo fino al 2023 giovedì 18 marzo buona serata e benvenuti al nostro telegiornale questa sera in apertura partiamo con la cronaca in modo particolare con il prezioso intervento dei carabinieri avvenuto nella serata di ieri per salvare la vita ad un sessantenne pesarese che aveva deciso di togliersela e allora sentiamo tutto in questo primo servizio di Daniele Romagna una telefonata ai carabinieri per annunciare il disperato gesto che stava per compiere e un biglietto lasciato nella propria automobile per comunicare alla famiglia le motivazioni alla base di quella che stava per trasformarsi in una tragedia telefonata partita dal cellulare di un uomo pesarese poco più di 60 anni residente a Colombarone il quale aveva deciso di farla finita negli attimi più vicini al triste epilogo al quale di lì a poco il soggetto stava per andare incontro è fortunatamente arrivata la decisione di allertare le forze dell'ordine nella centrale pesarese il carabinieri al di là della cornetta ha da subito capito la gravità di quanto stesse per accadere e la necessità di intervenire rapidamente per bloccare qualsiasi azione dell'uomo il primo step è stato quello di individuare il luogo esatto in cui si trovava il sessantenne con la scusa di conoscere la posizione in cui era ubicata l'auto per reperire e consegnare ai parenti il biglietto scritto dall'uomo una pattuglia dei carabinieri di gabice ha prontamente raggiunto il posto indicato ovvero la strada panoramica all'altezza di castel di mezzo intercettando sia la vettura che l'uomo il sessantenne è stato trovato con due fascette d'elettricista strette intorno al collo che gli stavano iniziando a creare difficoltà respiratorie i militari si sono quindi lentamente avvicinati all'uomo prima diffidente e successivamente invece disposto a ricevere il loro aiuto nel dialogo che ha portato i carabinieri a rimuovere e tagliare con un coltellino le fascette presenti sul collo del soggetto quest'ultimo avrebbe raccontato le motivazioni che lo avrebbero spinto a compiere tale gesto a diverse problematiche in ambito familiare si è raggiunta di recente la perdita di lavoro pochi mesi prima della pensione le brutte intenzioni dell'uomo sono state quindi cancellate dal prezioso intervento dei militari che dopo averlo aiutato lo hanno affidato ai sanitari e al ricovero ospedaliero per lo svolgimento dei controlli e delle cure previste continuano i controlli dei carabinieri nelle aree cittadine dove si concentra maggiormente lo svolgimento di attività illecite come lo spaccio di stupefacenti osservati speciali il monumento alla resistenza e l'area della stazione dove solo qualche giorno fa era stato fermato e segnalato in prefettura un giovane straniero in possesso di sostanze i controlli sono proseguiti poi anche verso il parco miralfiore dove grazie all'ausilio delle unità cinofile sono stati rinvenuti in un cespuglio qualche grammo di marijuana e dell'anfetamina in polvere sostanza intercettata per la prima volta dai militari nell'area verde della città e continuiamo a parlare di cronaca in questo caso però ci spostiamo a fano dove la polizia nel corso di alcuni controlli straordinari effettuati nei giorni scorsi che hanno interessato 150 persone e 65 veicoli ha arrestato una donna residente in romagna già nota le forze dell'ordine per essersi resa protagonista di quattro episodi di furto tra le marche e l'umbria la donna era stata sottoposta a un controllo nel centro di fano in quanto notata dai poliziotti mentre effettuava sopralluoghi presso alcune gioiellerie oltre a questa operazione gli agenti hanno controllato anche diversi casolari non abitati nella periferia fanese in uno di questi poliziotti hanno rintracciato tre stranieri comunitari che sono stati denunciati per i reati di occupazione abusiva di edificio e danneggiamento ed ora parliamo di coronavirus perché sono in aumento i dati dei nuovi contagi da covid-19 nella provincia pesarese mentre nella giornata di oggi all'ospedale marche nord si sono svolte le prime somministrazioni degli anticorpi monoclonali nel bollettino quotidiano relativo ai nuovi casi di covid registrati sul territorio marchigiano redatto dal servizio sanità della regione marche emerge una nuova salita dei contagi anche nella provincia pesarese ad essere processati nelle ultime 24 ore sono stati 6.168 tamponi 3493 nel percorso nuove diagnosi di cui 1017 nello screening con percorso antigenico e 2.675 nel percorso guariti con un rapporto tra positivi testati pari al 23,5 per cento i nuovi positivi nel percorso nuove diagnosi sono 820 230 quelli segnalati in provincia di pesare urbino nella serata di ieri invece sono stati resi noti i dati legati ai decessi a livello regionale 12 le vittime segnalate e una di queste proveniva dal comune di cantiano come annunciato dal governatore francesco acquaroli e dall'assessore alla sanità regionale filippo salta martini nell'ultimo consiglio regionale incentrato sulla tematica sanitaria la lotta al covid nelle marche può contare su uno strumento in più ovvero sugli anticorpi monoclonali l'aifa ha infatti approvato due progetti per marche nord e torrette consegnando 133 sacche per avviare le prime cure sui pazienti l'infusione degli anticorpi che viene effettuata nei primi giorni di riscontro della malattia per procederne quanto prima al blocco ha preso il via dall'ospedale pesarese proprio nella giornata odierna come annunciato dall'assessore alla sanità regionale salta martini le prime infusioni hanno riguardato tre pazienti che hanno subito trapianti ai reni e per i quali a causa delle patologie pregresse e delle terapie immunosoppressive si potrebbe verificare un pericoloso aggravarsi della malattia e dei rischi legati al covid c'era tesa inoltre per il pronunciamento dell'ema sulla sospensione del vaccino astrazeneca la comunicazione relativa alla sicurezza e l'efficacia del vaccino arrivata nel pomeriggio odierno permetterà la riorganizzazione sul territorio regionale della campagna vaccinale per la quale l'assessore alla sanità a saltamartini avrebbe dichiarato la ripresa già a partire da questo weekend come comunicato anche dall'asur anche oggi al centro monaldi sono state sospese le nuove vaccinazioni tutte le prenotazioni saranno automaticamente rielaborate e la nuova data dell'appuntamento verrà comunicata dagli enti preposti ai diretti interessati oggi è il 18 marzo ed è giornata nazionale per quanto riguarda il ricordo delle vittime del covid 19 anche a pesaro quindi ha voluto seguire l'iniziativa nazionale promossa da anci le bandiere del palazzo comunale sono state poste a mezzasta ed è stato osservato un minuto di silenzio in memoria delle migliaia di persone morte a causa della pandemia bandiere a mezzasta e un minuto di cordoglio che sono stati osservati oltre che in regione anche da tutti i comuni della nostra provincia e anche dalla sede del comitato pesarese della croce rossa a fano invece presso il parco urbano polverari si è svolta una cerimonia a cui hanno preso parte il sindaco massimo seri e l'arcivescovo trasarti e in cui è stato simbolicamente piantato un albero con il proposito di dare vita ad ottobre ad un bosco attraverso una piantumazione per ciascuna vittima del virus vediamo allora qualche immagine e anche tutta la redazione di rossini tv è vicina ai familiari delle vittime del covid 19 e adesso chiaramente cambiamo argomento e dobbiamo parlare di una nuova applicazione da poter scaricare su tutte le piattaforme digitali per accedere comodamente ai tanti servizi offerti questa è la grande novità delle farmacie comunali come ci racconta in questa prossima intervista il presidente di aspes luca pieri che ha inoltre sottolineato anche la grande adesione dei cittadini nell'effettuare in farmacia tamponi e test sierologici rapidi si potrà innanzitutto prenotare il farmaco anche con ricetta medica e quindi il cittadino avrà la certezza nel momento in cui si recherà in una delle nostre dieci farmacie comunali di trovare da subito il farmaco richiesto poi si potranno accedere a tutti i servizi a cominciare dalle promozioni che noi facciamo e che sono sempre molto interessanti dal punto di vista economico e anche dal punto di vista tecnico per quanto riguarda il cittadino insomma per approcciarsi a tutti quelli che sono i prodotti che all'interno del sistema delle farmacie comunali di pesero di gabice mare abbiamo e poi insomma tutto quello che sono i servizi insomma c'è la geolocalizzazione per cui nel momento in cui il cittadino ha la necessità trova la farmacia più vicina e diciamo che abbiamo aperto a questo mondo nuovo delle applicazioni telefoniche che ci permette di essere ancora più vicini ai nostri utenti ai nostri cittadini dai servizi che possono essere migliori applicazione scaricabile su qualsiasi dispositivo si si su tutti i dispositivi su android e ios e quindi diciamo che siamo così siamo tecnologicamente avanti che è una cosa che volevamo già fare da qualche da qualche mese il vari lockdown insomma poi l'epidemia ci ha rallentato però adesso siamo operativi si può scaricare farma comunali la trovate sulle due piattaforme i tamponi quindi non saranno prenotabile tramite l'applicazione però rimane attivo il numero telefonico attraverso cui poterli prenotare si è così chiamandolo 0721 37 24 73 è possibile prenotare sia il tampone che il test sierologico rapido proprio per quanto riguarda queste due questi due nuovi servizi che da qualche settimana si possono effettuare in farmacia come stanno andando quali sono i numeri e i risultati ad oggi abbiamo dovuto implementare vista la richiesta molto forte che c'è stata da parte della cittadinanza il servizio oggi all'oggi girano due farmacisti sulle nostre almeno quattro farmacie comunali giornaliere proprio per cercare di dare servizio capillare e puntuale in tutti i quartieri dove siamo presenti compreso gabice e abbiamo superato la somma tra test sierologici e tamponi rapidi i 1200 e abbiamo prenotazioni continue costanti un flusso insomma è un servizio che la gente ha apprezzato tanto c'è un continuo e costante richiesta di effettuare questo questo tampone che poi da al 90 e passa per cento insomma la certezza di averci preso considerate che tutte le persone che sono trovate positive e che poi vanno a fare il tampone molecolare perché noi siamo collegati come sistema farmacie al sistema della piattaforma asur regionale che poi manda il richiamo vengono quasi tutte confermate senza nessun tipo di problema nella positività purtroppo ed ora il momento di parlare della promozione della nostra regione il commissario tecnico della nazionale calcio roberto mancini e il nuovo testimonial delle marche questa mattina palazzo raffaello la giunta regionale ha firmato l'accordo che lega l'immagine del ct alla promozione turistica della regione fino al 2023 partner dell'iniziativa anche la camera di commercio vediamo quindi tutte le interviste ai protagonisti sicuramente un gol importante in termini di immagine di visibilità di riconoscibilità e di un territorio che purtroppo a volte è rimasto ai margini delle dinamiche nazionali e internazionali e che invece con il mister del nazionale commissario tecnico nazionale roberto mancini può acquisire una visibilità e una riconoscibilità che sicuramente per noi è molto importante per questo voglio ringraziare roberto mancini per la sua disponibilità in un momento così importante e anche apicale la sua carriera che lo vedrà protagonista in questi prossimi campionati europei national league la qualificazione mondiali quindi sfide importantissime e ha deciso in questo momento importante della sua carriera appunto di coniugarsi con la sua regione è veramente qualcosa di importante per noi è un grande piacere un grande onore rappresentare oltre che la nazionale come ct ma rappresentare la mia regione in questo momento non semplice essendo nato qua insomma è solo la bellezza che che ha la nostra regione e tutto quello che che si può fare insomma e penso che insomma vada veramente fatto il massimo per poter portare più turisti possibili perché è una regione bellissima quindi insomma bisogna fare le cose per bene per cercare di arrivare a questo la camera commercio con la regione chiediamo fortemente in questo progetto che il presidente acquaroli ci ha proposto ovvero del test di roberto mancini un atleta un ragazzo marchigiano che in un momento così delicato per le riprendere quei mercati importanti per portare economia forte turistica sulla nostra regione sicuramente potrà darci una mano siamo felici lui è un marchigiano come tutti quanti noi e con lui siamo riusciti ad arrivare anche in altri paesi importanti dove lui è riuscito a vincere e a portare alto il nome dell'italia terziario donna pesaro urbino guidato dalla presidente patrizia caimi offre alla rete terziario donna conf commercio e alle donne della provincia la possibilità di poter partecipare gratuitamente al ciclo di webinar dal titolo meno pausa do not disturb ideato dalla presidente del gruppo bellezza salute e benessere di conf commercio marco e nord stella scarpa un ciclo di tre incontri per sensibilizzare su un tema ancora troppo poco discusso e per condurre la donna ad una meno pausa in bella salute gli appuntamenti sono previsti in tre domeniche quella del 21 marzo e dell'11 aprile dalle 9 alle 11 mentre il 18 aprile dalle 9 alle 11 30 per aderire all'iniziativa è necessario inviare una mail a terziario donna più chiocciola ascom pesaro punto it indicando cognome nome e contatto telefonico dopo il successo riscosso nella settimana rossiniana torna domenica 21 marzo ospite di sinfonica 3.0 giovanni gnocchi l'appuntamento trasmesso in streaming dal teatro rossini di pesaro sarà visibile sul sito orchestra rossini punto it e sui social dell'orchestra alle ore 20 e 30 il concerto è organizzato in collaborazione con il comune di pesaro e il sostegno di xan italia lo scorso 8 marzo sono stati ben 5 continenti 21 università 30 docenti e 100 giovani si sono collegati in streaming al teatro galli di rimini per baci dal mondo tributo a dante a francesca da rimini tra le prime iniziative importanti che festeggeranno il centenario dantesco 2021 il progetto è stato realizzato dai comuni di rimini e di gradara con la collaborazione delle regioni emilia romagna e marche pochi giorni dopo il colpo di coda dell'inverno che a inizio settimana si è verificato nell'entroterra pesarese con la nevicata che ha interessato come avete visto il monte carpegna la scorsa notte è toccato anche ai nostri vicini di casa in romagna assistere alla caduta di alcuni fiocchi come vediamo da queste immagini che stanno scorrendo e ci arrivano da nova feltrea e anche da san marino san marino questa mattina appunto ha visto le strade completamente imbiancate e allora grazie come sempre per le vostre segnalazioni e per farci partecipe con le vostre immagini intanto andiamo a parlare di vaccini con la sospensione delle vaccinazioni su scala regionale si sono fermate anche le somministrazioni che erano recentemente partite nel comparto università oltre 400 quelle effettuate per l'ateneo di urbino e circa 1000 quelle dell'università politecnica delle marche come ci spiegano nelle prossime interviste i rettori delle due università sono partite sabato sabato pomeriggio e domenica sia agli ospedali di urbino che di fossombrone più o meno abbiamo vaccinato circa 400 persone ho parlato con il direttore di area vasta 1 con il quale c'è stata una una fattiva collaborazione anche lui pensa che nei prossimi giorni si possa riprendere si aspettano indicazioni insomma dall'aifa o dal governo insomma per poterli riprendere penso che sia una cosa utile anche per urbino stesso perché insomma la città vive con molto sull'università la scuola presenta soprattutto agli studenti le vaccinazioni potrebbe essere uno strumento efficace per poter riprendere tutti in presenza più ingresso in zona rossa anche per la regione Marche a livello nazionale ha comportato il ritorno in didattica a distanza anche per gli studenti dell'università ovviamente la speranza è che il prima possibile le lezioni possano riprendere in presenza abbiamo fatto solo la prima settimana del secondo semestre in cui erano in presenza i ragazzi gli studenti dei primi anni sia delle triennali che delle magistrali poi siamo tornati tutti in didattica distanza c'è molto malumore già gli studenti si lamentavano che facevamo solo i primi anni ovviamente lo facevamo sia per rispetto delle indicazioni sia regionali che statali ma anche per la consapevolezza della situazione che era molto critica e quindi speriamo che andando avanti con le vaccinazioni che si possa riprendere tutti in presenza noi abbiamo iniziato a vaccinare già da oltre una settimana sostanzialmente abbiamo vaccinato oltre mille colleghi e anche estendendolo in maniera ampia pronti a riprendere appena ci daranno ulteriori informazioni o comunque a comportarci come le linee guida ci diranno io mi sono vaccinato sono vaccinato una settimana fa ed ora chiudiamo il nostro telegiornale parlando di sport per raccontarvi i risultati del turno infrasettimanale che ha visto protagoniste sia la vispesaro che l'alma juventus fano esultano i biancorossi di mister di donato per il 2 a 0 contro il carpi mentre i granata registrano un'altra sconfitta questa volta contro l'arezzo vediamo il servizio termina con una vittoria e una sconfitta il turno infrasettimanale del calcio locale che ha visto impegnate la vispesaro in trasferta contro il carpi e l'alma juventus fano in casa contro l'arezzo l'allenatore biancorosso daniele di donato ha potuto esultare per la performance dei suoi ragazzi che con i due gol messi a segno e nessuna rete subita si sono imposti sugli avversari guadagnando tre nuovi punti in classifica è stata per noi era una partita importantissima oggi avevo detto alla vigilia che saremmo venuti qua da fare battaglia contro una buona squadra una squadra che gioca bene che ci ha messo in difficoltà siamo stati bravi a soffrire perché abbiamo sofferto e a colpire quando andavamo a colpire poi il secondo tempo abbiamo legittimato il risultato che pensa sia meritato alla fine è un periodo un periodo che stiamo facendo veramente bene un mese a questa parte che stiamo disputando delle buone partite con risultati importanti abbiamo scalato la classifica e questa è stata una vittoria importantissima che ci permette di allontanarci oggi dal gruppone sappiamo che la strada è ancora lunga non abbiamo fatto ancora nulla sono ancora partite a disputare abbiamo ancora scontri retti quindi non ci dobbiamo cullare su questa su questa gara che era importante l'abbiamo portata a casa però già da domani dobbiamo iniziare a pensare ad altro abbiamo sofferto ripeto abbiamo sofferto il primo tempo perché non uscivamo bene sulla pressione secondo tempo siamo venuti fuori abbiamo aggredito più alti e abbiamo fatto il secondo gol e abbiamo rischiato di fare anche il terzo però è stata una partita ho detto difficile ma su tutti i punti di vista e l'abbiamo affrontata da grande squadra quale siamo diventati nell'ultimo periodo e penso alla fine sia meritato il risultato situazione diversa invece per l'Alma Juventus Pano che dopo il KO contro il Legnago nell'ultimo fine settimana registra una nuova sconfitta questa volta contro l'Arezzo per 1 a 0 amarezza espressa dal tecnico Flavio Destro ma soprattutto dal presidente Fatò Fidani che nonostante la reazione nel secondo tempo ha criticato l'approccio dei Granata al match si è vista una reazione nel secondo tempo però l'approccio nuovamente siamo entrati in pauriti in campo il primo tempo è stato a pannanzo dell'Arezzo noi abbiamo fatto ben poco vero è che il secondo tempo poi noi abbiamo dominato abbiamo avuto molte occasioni però stiamo sempre a raccontare la solita surfa la solita storia quale sia la soluzione la ricetta io non la non sono né un tecnico né ho la capacità di dare dei consigli spero spero che possano ripetere dall'inizio dal primo minuto di gioco nelle prossime partite la prestazione che hanno offerto nel secondo tempo di cuore grinta e anche voglia di fare risultato e continuiamo a parlare di sport su Rossini TV perché questa sera come tutti giovedì è il momento di parlare di basket con insieme a canestro il nostro focus sulla carpegna prosciutto basket pesaro gli ospiti coordinati da il nostro Marco Cadeddu sono Stefano Cioppi che è il direttore sportivo della VL Giovanni Prodi che è il titolare di Prodi Sport e poi Yerkov che è ex giocatore della VL vi aspettiamo quindi alle 21.15 oppure se volete alle 22.30 invece adesso vi lascio in compagnia del meteo per vedere come sarà il tempo per i prossimi giorni l'appuntamento con informazione torna domani mattina alle 7.20 con la rassegna stampa condotta da Daniele Romagna buona serata